Dopo un'attente riflessione e sollecitato dai suoi amici di sempre, Ercole Core, stimato medico che ha dedicato una vita intera ai soggetti più deboli, ha deciso di accettare la candidatura per le prossime regionali con la lista Abruzzo Insieme, ideata dall'inossidabile Donato Di Matteo. Io mi sono sempre occupato di sanità, ritorno in campo appunto per occuparmi di nuovo della sanità e del diritto della salute dei cittadini. I miei obiettivi sono sostanzialmente due, fondamentalmente la riorganizzazione della rete territoriale, quindi i mini ospedali territoriali, la riorganizzazione della rete ospedaliera, mai più ospedali da chiudere, ma ospedali che sono mai da riconvertire, il potenziamento del pronto soccorso del 118 e quindi l'assistenza sul territorio H24 per gli anziani, per i soggetti con le polipatologie e quindi diciamo per una sanità che sia al passo con i tempi e con la ricerca scientifica. Sanità in via prioritaria, ma l'Abruzzo ha bisogno anche di altre cose, soprattutto di lavoro e soprattutto per i giovani. Beh, intanto io posso dire che nell'ambito della sanità, nel miglioramento dei servizi, si trovano anche posti di lavoro, infatti io ho una cooperativa insieme ad altri medici, eccetera, in cui abbiamo 100 dipendenti facendo questo servizio sul territorio. Il lavoro è fondamentale e importantissimo, dobbiamo spingere fortemente e soprattutto spingere per investire sul territorio anche tutte le poste economiche che ci riserva anche la comunità economica europea, che mi pare siamo un po' indietro nella spesa. Il candidato presidente Giovanni Legnini, al quale lei è collegato con la sua lista, a suo giudizio può dare un impulso rinnovato alla Regione? Non credo che debba fare la presentazione di Legnini, che è un mio grande amico da tanti anni. Credo che Legnini sia la persona adatta per poter fare tutte queste cose. È un grandissimo lavoratore, ha fatto finanziarie dello Stato, ha una grandissima esperienza, è stato vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, quindi mi sembra che sia proprio ad hoc per l'Abruzzo. Grazie. 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 Grazie.